Io sono Chiara Evangelista e sono una ricercatrice presso il laboratorio percro della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Il mio interesse è essenzialmente per i temi che sono presenti all'interno dei vari interventi, perché sono temi che anche noi affrontiamo ormai da anni all'interno del nostro laboratorio. Siamo un laboratorio di tecnologia applicata, in particolare come gruppo di ricerca lavoriamo proprio nell'ambito dei beni culturali e della valorizzazione attraverso le tecnologie e abbiamo sperimentato negli anni vari tipi di tecnologie applicate a queste tematiche della divulgazione, della diffusione e della conoscenza. Ho trovato molto interessante soprattutto l'approccio sull'utilizzo della tecnologia a servizio della divulgazione, quindi il tema principale della narrazione, dello storytelling come parametro di creazione di un'applicazione multimediale più che la tecnologia come strumento principale. Grazie a tutti.